Il Consiglio regionale si è messo in pole position per quanto riguarda i fondi del Recovery Fund? Sì, devo dire in maniera unanime, anche lì in stretto rapporto con la Giunta stessa, che sta già svolgendo un lavoro, però si è ritenuto che il luogo nel quale poter selezionare le proposte da sottoporre al Governo, ma non solo, perché un lavoro verrà fatto non solo nei fondi del Recovery Fund, ma di tutte quelle risorse anche che la programmazione comunitaria 21-27 mi ha a disposizione e le stesse risorse della Regione che siano indirizzate rispetto a un progetto coerente e competente di ripartenza. L'abbiamo definita la terza ripartenza, dopo quella del Secondo Poguerra e quella del terremoto, c'è necessità che tutte le energie si mettano insieme per immaginare il Friuli del Surgio del domani. Faccio sempre un esempio, dopo il terremoto una classe politica avveduta ha investito nell'Università del Friuli, nell'autostrada, nel polo di ricerca di Trieste, e quello non c'entrava niente col terremoto, ma era un'idea di come poteva sottrarsi il Friuli del Surgio da un'economia rurale, artigiana, a un'economia che invece guardava all'Europa e ha garantito decenni di sviluppo. Dobbiamo fare un modello simile.